Siamo qua in diretta da Campoligure col terzino mancino del Campoligure al Borgo, Filippo Pastorino detto il Pippella. Cosa ne pensi di questa stagione? Una stagione meravigliosa, conclusa sia alla grande con una promozione sperata, ma allo stesso tempo meritata perché comunque abbiamo dato tutto per 90 minuti, tutte le partite, è stato bellissimo. Chi pensi che vincerà i play-off? Ma l'Old Boys è certamente la squadra da battere, giocando in casa a sconti diretti, avendo a favore i risultati, penso che loro siano i favoriti. Bene. Un ringraziamento doveroso a tutti i tifosi che ci hanno supportato durante la stagione, loro sono stati il dodicesimo uomo in campo ed è stato bellissimo.